Salve a tutti signore e signori, benvenuti in questo nuovo video su The Zion Theory, io sono Spazio. Martedì 24 marzo è uscito anche in Italia Disney Plus. Finalmente abbiamo la possibilità di vedere il catalogo Disney Plus e ciò che la piattaforma streaming della Disney per l'appunto ha da offrirci. Togliamoci subito il dente per quanto riguarda i costi e il prezzo dell'abbonamento mensile e annuale. Per quanto riguarda l'abbonamento annuale stiamo parlando di 69,99€ all'anno per l'appunto, mentre per quanto riguarda l'abbonamento mensile parliamo di soli 6,99€. È terminata l'offerta che prevedeva i 59,99€ all'anno prima che aprisse battenti Disney Plus e quindi per adesso queste sono le possibilità di abbonamento che abbiamo. Quindi 69,99€ all'anno e 6,99€ al mese. Ora, cosa prevede, cosa c'è nel catalogo Disney Plus? Qual è l'offerta che la piattaforma offre agli abbonati? C'è da dire una cosa ragazzi sicuramente, che Disney Plus va ad accogliere le richieste prevalentemente degli appassionati del mondo Disney. Perché sono presenti tutti i classici d'animazione Disney più famosi, c'è qualche rara eccezione, se non mi sbaglio, La Spada nella Roccia, Manca, Mulan. Ho visto insomma, diciamo sfogliando un po' e ricercando nel catalogo Disney, però per il resto c'è tutto. E ovviamente non solo i film d'animazione, ci sono tutti i film Disney. Tesoro mi si sono ristretti, ragazzi, insomma tutti questi film, Flabber ad esempio, ecco, tutti questi film comunque che fanno parte per l'appunto del mondo Disney. E quindi ecco, prevalentemente chi vuole abbonarsi a Disney deve sapere questo, che non è presente l'offerta di film, serie che c'è in Netflix o in Amazon Prime. Ma qui ci si indirizza verso un target specifico, un target di appassionati. Oltre naturalmente ai classici Disney c'è il mondo Star Wars con tutti i film e anche alcune serie di animazione come ad esempio Lego Star Wars. C'è il mondo Marvel, tutti i film Marvel con anche in questo caso serie animate riguardanti l'universo di Spider-Man. E i documentari National Geographic. Questo è il pacchetto che offre attualmente Disney Plus. Quindi se siete appassionati dei classici Disney, dei film Marvel o della saga di Star Wars, sicuramente Disney Plus è la piattaforma che fa per voi. Che peraltro si può tranquillamente completare e incastrare alla perfezione con Netflix e Amazon Video. Quindi questo è il consiglio che vi do. Se siete appassionati fate bene ad abbonarvi perché comunque il prezzo è molto abbordabile. Se invece non avete questo trasporto nei confronti del mondo Disney in generale, allora magari non è il caso di abbonarsi. Andando un po' più nello specifico di quello che ha da offrire il catalogo Disney Plus, naturalmente troviamo grandissime chicche del passato anche per quanto riguarda la nostra infanzia. Come ad esempio la serie DuckTales con Sio Paperone qui qua qua. È un tuffo nel passato. C'è una piccola perla che è la serie Darkwing Duck che io personalmente seguivo moltissimo quando ero piccolo. E quindi rivedere, avere la possibilità di rivedere le puntate di Darkwing Duck sicuramente rappresenta una bellissima sorpresa. Poi ovviamente per quanto riguarda soprattutto il pubblico più piccolo che poi è quello che forse è più interessato alla visione del catalogo Disney Plus, ci sono le serie Disney Junior, ci sono tutti i cartoni con il protagonista Topolino, anche quelli piuttosto datati. Ci sono ovviamente le produzioni Disney Channel, parliamo di Anna Montana, di Violetta, tutte queste serie anche per i bambini che hanno avuto molto successo in passato e anche adesso. Poi c'è Winnie the Pooh con tutti i suoi film e sorpresa da non sottovalutare, ecco questa è una cosa che magari potevo anche menzionare all'inizio video, ci sono tutte le stagioni dei Simpsons. Quindi tutte, 30 le stagioni dei Simpsons e questa è una cosa che per gli appassionati di Homer e Company non è da sottovalutare. Perché qualora vi foste persi degli episodi o comunque non aveste visto tutte le stagioni della famiglia di Springfield, questa è un'ottima occasione per abbonarsi a Disney Plus e poter rispolverare, rivedere tutte le stagioni, tutti gli episodi dei Simpsons. Per quanto riguarda i classici d'animazione Disney, Aristogatti, Libro della Giungla, Robin Hood eccetera eccetera, sono praticamente presenti tutti tranne, vi ho detto, La Spada nella Roccia e Mulan. Non so per quale motivo, probabilmente verranno aggiunti nei prossimi giorni. E ovviamente anche i sequel, i sequel che sono meno famosi e meno belli semplicemente rispetto ai primi capitoli, però ecco è presente praticamente tutto il pacchetto, ad esempio Il Re Leone 1, Il Re Leone 2, Il Libro della Giungla 2, insomma ci sono anche tutti i sequel dei classici d'animazione. Per quanto riguarda il mondo Marvel, anche qui c'è praticamente tutto, sono assenti i capitoli di Spider-Man, quindi Spider-Man Oncoming, Spider-Man Far From Home, per il resto sono inclusi nell'offerta gli ultimi capitoli di Avengers. Sul lato Star Wars anche qui sono presenti tutti i film usciti fino ad oggi, quindi anche per gli appassionati della saga di Guerra Stellari sicuramente un'occasione per rivedere tutto. Vado alle produzioni originali, vado alle produzioni originali, da questo punto di vista ancora c'è poco, perché comunque la piattaforma è nelle sue fasi iniziali. C'è The Mandalorian, la serie ambientata nell'universo di Star Wars, di cui abbiamo parlato anche in occasione del primo video che feci riguardo a Disney Plus qualche mese fa. C'è The Mandalorian, c'è il live action di Lily e il Vagabondo, questi sono i prodotti in esclusiva. Poi c'è qualcos'altro, ma diciamo ecco, niente di così eccezionale, a parte i prodotti che ho menzionato adesso. Per quanto riguarda proprio i live action, sono presenti tutti quelli usciti fino a questo momento, a parte il Re Leone che comunque sarà disponibile a breve, nell'offerta Disney Plus. Quindi ragazzi, questo è quanto. Ho voluto fare un po' un riassunto di quelle che sono le serie e i film presenti nel catalogo Disney Plus. Ribadisco che è Disney Plus una piattaforma indirizzata prevalentemente agli appassionati del mondo Disney, Star Wars, Marvel e probabilmente anche più rivolta alle famiglie, in particolar modo ai più piccoli. Quindi se non avete passione per questi mondi che ho descritto, Marvel, Star Wars, Disney, probabilmente non è il caso di considerare l'abbonamento a Disney Plus. Bene ragazzi, direi che abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire riguardo a Disney Plus. Io vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se non l'avete già fatto, di lasciare un mi piace qui sotto, qualora il contenuto sia stato di vostro gradimento, di condividere il video e di dare anche un'occhiata alla pagina Facebook. Anche per oggi è tutto, noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti da Spazio.